A Sambuca di Sicilia nel fine settimana si svolgerà la Sagra del Tartufo, tre giorni di eventi dal 21 al 23 giugno per celebrare quello che viene definito l'Oro Nero. Finalmente ci siamo, Sambuca da tre anni fa parte delle associazioni nazionali di città del tartufo, è una nuova esperienza, una nuova avventura che si apre al territorio, alle attività ovviamente sambucesi e a tutto il contesto. Ci siamo accorti che il tartufo di Sambuca non è pregiato ma è pregiatissimo, è ricercato, ci sono trent'anni di ricerche attorno al tartufo, attorno alle montagne e a monte di Sambuca e ora abbiamo un po' sdoganato questo nuovo prodotto, lo stiamo facendo anche in collaborazione con le associazioni del posto che ci hanno proposto un bel programma, ma lo facciamo ovviamente con chi di tartufo se ne intente, con professionista, avremo a Sambuca chef stellati, avremo la presidente nazionale delle città del tartufo per un convegno, ma abbiamo anche e soprattutto le attività che già da un po' di settimane stanno preparando il miglior piatto da presentare ai propri ospiti nelle giornate di 21, quindi venerdì, sabato e domenica. Il programma è ricco, fatto anche di passeggiate perché la cosa più curiosa è anche capire come il tartufo, come si cava dal terreno con l'aiuto dei cani lagotto, ci sarà quindi una passeggiata domenica mattina nel bosco e anche questo chilometro zero dalla ricerca, dalla cavatura alla produzione con un aperitivo in piazza a mezzogiorno della domenica, ci fa capire quanto il chilometro zero serve a una comunità e come le territorialità, cioè le bontà di un territorio possono diventare ragioni di sviluppo, turismo e ovviamente di crescita di una comunità. Un programma ricco e articolato, quello delle tre giornate della Sagra del Tartufo. Il programma è farcito anche di uno spettacolo per bambini, per esempio abbiamo pensato a loro di una zabbinata in piazza, che ovviamente anche questa farà profumo di tartufo, con i nuovi formaggi che già come dicevo prima le aziende hanno prodotto, ma hanno quindi sperimentato in questo tempo, ma ci sarà anche della musica, ci saranno le cantine del territorio, le cantine sambucesi, perché anche l'abbinamento in questi giorni si è fatto questo impegno pomeridiano per abbinare il miglior vino al miglior piatto. E sappiamo che già il vino, che è espressione di un territorio, delle Teresicane ovviamente, se non di tutta la Sicilia è chiaro, insieme a un'altra esperienza, quella del Tartufo, riuscirà a dare un'occasione ulteriore a Sambuca, ma non solo a Sambuca, ma a un territorio che cammina e cresce insieme. Abbiamo messo insieme venerdì la giornata italiana della musica, con uno spettacolo musicale al teatro, con il Conservatorio Toscanini di Ribera, e ci sarà un corso di formazione per ristoratori, per gastronomie, pizzerie, quindi per capire come possono utilizzare il Tartufo nei loro menù. Sabato ci sarà la giornata clou, sabato pomeriggio con gli stand in piazza, ci sono diversi stand con prodotti al Tartufo, prodotti tra l'altro con Tartufo cavato nel territorio sambucese, pur arrivando le aziende dal Messinese, per esempio, ma ce ne sono di Palermo, di Bisacquino. E poi ancora la sera ovviamente la degustazione, ci sarà musica in piazza, quindi passeremo una bella serata, aprendo alla giornata della raccolta, che è la domenica mattina, dove insieme alle 9 abbiamo appuntamento al Bosco del Pomo, per raccogliere il Tartufo e poi per un aperitivo in piazza insieme. Vi aspetto a Sambuca, vi aspettiamo a Sambuca per un fine settimana al Sapore di Tartufo.